Senatrice, possiamo fare una battuta? Veloce, veloce. Velocissimi, ma secondo lei il dossier dell'Europa è venuto fuori questa mattina? Ah, pensavo su questo. No, 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 riguarda anche tra l'altro la giustizia rispetto alla Viglia Ryan. Eh, però ditemi ecco che cosa... È stata una vendetta, secondo lei. Allora, io sono stata finora in Commissione Giustizia sul DL Carceri, se volete parliamo di quello. Perché di altre cose dico solo... Avete trovato anche una quadra con il nevendamento Giacchetti? Ve ne posso parlare del DL Carceri. Allora, stamattina abbiamo trovato in l'ambito della maggioranza una sintesi rispetto ad alcuni emendamenti di Forza Italia e sono soddisfatta perché ancora una volta si è dimostrata coesa la maggioranza. Abbiamo votato gli emendamenti in Commissione, abbiamo chiuso il provvedimento e credo mercoledì sarà in aula. Quindi tutto ok.